Ciao a tutti, io sono Chiarae Annicello, un'arte Chiarae e sono felicissima di essere tra i sei finalisti del contesto Musica da Bere che si terrà il 19 ottobre alla Tempio di Brescia e non vedo l'ora di potervi presentare il mio progetto con i musicisti che ci sono sempre stati sin dall'inizio. Il progetto è nato circa tre anni fa e ha visto la luce sei mesi fa con il mio primo album che presenta un ensemble di musicisti molto numeroso però alla Tempio saremo in una formazione ridotta. Io sono Erol Contrabbasso e la voce, Ernesto Massimino Voza la batteria e la voce, Giada Di Prisco la chitarra elettrica e Alfonso Marra le tastiere. Vi aspetto, ciao! Dove le società, essa stregno ancora e senza fanno rumore guardo me e io ho capito come è fatta a diventare così non mi fai sapere, forse è saggiato solo un momento da un po' più non mi fai sapere, forse è saggiato solo un momento da un po' più non mi fai sapere, forse è saggiato solo un momento da un po' più non mi fai sapere, un po' più che ci si sa facendo un po' più non mi fai sapere, forse è saggiato solo un momento da un po' più